Fino a questa notte sulla A7 continuano i lavori di consolidamento nella galleria Monte Galletto, nel tratto compreso fra l'allacciamento con l'A12 e Bolzaneto verso Milano. È chiuso in orario notturno anche il bivio che dà la A7 sud e conduce in A12, ma la riapertura della Monte Galletto con ogni probabilità darà respiro alla viabilità a ridosso del nodo genovese, che già negli ultimi due giorni ha visto riproporsi code e incolonnamenti, sebbene misura molto minore rispetto a qualche settimana fa. Nei prossimi giorni però torneranno i cantieri sulle autostrade Liguri dopo la pausa e lavori decisa per il Ferragosto e interesseranno in particolar modo proprio il Levante, che ha affrontato senza particolari contraccolpi il primo controesodo estivo lo scorso fine settimana. Ma andiamo con ordine. A partire da mercoledì notte sarà chiuso il tratto fra Recco e Nervi verso Genova. Più nel dettaglio i lavori inizieranno alle 22 di mercoledì 26 agosto e proseguiranno fino alle 6 del mattino successivo e così sarà anche nelle notti successive, fra giovedì e venerdì e fra venerdì e sabato. Questo, sembra scontato, porterà un netto incremento del traffico nel centro di Recco, specie per quel che riguarda i mezzi pesanti. Sempre a partire da mercoledì notte è prevista la chiusura anche per il tratto fra Sestri Levante e Deiva Marina, in questo caso solo per la notte fra mercoledì e giovedì e dalle 22 alle 6. Al momento resta gratuito il tratto di autostrada fra Lavagna e l'allacciamento con l'A7, così come accade fra Vignole Borbere e Genova Ovest, fra Varazze e Aeroporto e fra Uvade l'allacciamento con l'A10. Per quanto riguarda le prossime settimane ci saranno ulteriori interventi di rifinitura nella Galleria della Maddalena fra Chiavari e Rapallo, ma resta da capire quando inizieranno i lavori per installare le ondoline antipioggia, come indicato dal Ministero, e per eliminare i pannelli fonoassorbenti. L'autunno insomma non si preannuncia semplice.